Ciao, sono Aurora Manzotti, ho 16 anni e abito a Settola. Ho due grandi passioni, una per il disegno e una per il rock. Sono una grande passionata per il rock, da quando avevo tipo 11-12 anni. Me l'ha attaccata un po' a mio padre, questa passione, visto che lui è bassista e mi piace moltissimo il rock. Diciamo che qua in famiglia siamo un po' tutti musicisti, perché appunto mio padre è bassista, mio fratello suonava nel pianoporte e io ho appunto la chitarra. Oggi vi farò vedere come si faranno le pentatoniche di Mi. Allora, partiamo con la prima, seconda, terza, e poi partiamo. Guarda. Guarda. Spero che vi sia piaciuto Ciao